Luglio 2024 ci regala un Giove sempre più bello e facile da vedere all'alba e si conclude con un quadretto celeste da ammirare e fotografare. Questo video fa parte del progetto Occhi al Cielo, un magazine della Hawaii, l'Unione Astrofili Italiani, adatto per chi vuole avvicinarsi all'astronomia osservativa. Trovate il link in descrizione. Benvenuti e benvenuti cari osservatrici e cari osservatori del cielo. Nel video sugli eventi cosmici di giugno ci eravamo lasciati parlando di un interessante allinamento planetario che si presenta anche questo primo di luglio. Saturno brilla tra sud e sud est nella costellazione dell'Acquario, facile da individuare perché è l'astro più appariscente di quella fetta di cielo. Verso est notiamo subito la luna crescente. Si trova dentro i confini della costellazione dell'Ariete ed è accompagnata a breve distanza dal pianeta rosso Marte che vediamo rilucicare in basso a sinistra della luna. Infine, mentre porgiamo lo sguardo verso l'orizzonte non possiamo non vedere il brillante Giove che dimora nel toro vicino all'ammasso stellare delle Iadi. Lì nei paraggi c'è Aldebaran, la stella più luminosa di questa costellazione. Ora, a una decina di gradi sopra Giove, cioè circa all'altezza di un pugno ottenuto a braccio teso, possiamo cogliere, meglio se con l'aiuto di un binocolo, il bellissimo ammasso stellare delle Pleiadi. E dopo aver ammirato questa bella carrellata di astri, sempre all'alba del primo luglio, togliamo la nostra attenzione tra nord e nord-ovest. Bassa l'orizzonte, avvolta dalle scure tonalità della notte che ci sta salutando, possiamo intravedere l'asterismo del grande carro che dolcemente si avvicina all'orizzonte mentre il sole si prepara a dare inizio a un nuovo luminoso giorno. Giorno che illuminerà le nostre spiagge e montagne fino a sera quando Elio, finendo sotto l'orizzonte, lascia spazio di nuovo alle stelle. Stelle che rimangono sole perché in questi primi giorni d'estate le sere sono poveri di pianeti. Ma non disperate, miei cari, perché il cielo ci regala sempre tante meraviglie. Per esempio, le costellazioni che a giugno vedevamo basse all'orizzonte dopo il tramonto del sole adesso iniziano a dominare il firmamento. E così le lucenti Vega, Deneb e Altair, le stelle che definiscono l'asterismo del triangolo estivo, sono ora visibili per tutta la sera. Insieme a loro appare anche la magnifica costellazione dello scorpione che domina il sud di queste calde sere estive, mentre Arturo, il proseguimento della coda dell'orsa, è lì alta in cielo ad attirare la nostra attenzione. La mattina del 2 luglio, guardando tra est e nord-est, a circa 20-30 gradi sull'orizzonte, più o meno una spanna a braccio teso, osserveremo facilmente un falcetto di luna meno luminoso del giorno precedente, a destra del quale si nota facilmente il rosso Marte. Ora spostando lo sguardo dalla parte opposta di Marte rispetto alla luna, poco più in basso scorgeremo il bellissimo ammasso stellare delle Pleiadi e sotto di lui il brillante Giove. Se a questo punto torniamo a guardare la nostra Selene e dirigendoci in direzione nord-est, rimaniamo sempre alla stessa altezza sull'orizzonte, arriviamo alla brillante Capella, la stella più luminosa della costellazione dell'Auriga. E così in questo periodo di inizio estate vediamo sorgere la mattina le prime costellazioni dell'esagolo invernale, un asterismo che, come dice il nome, brillerà alto in cielo la sera tra sei mesi circa. Ma torniamo a noi, perché nella costellazione del Toro in questi giorni c'è parecchio movimento. La mattina del 3 luglio anche la luna invade i confini del bovino celeste, intromettendosi tra le Pleiadi e Giove. Prendendo come riferimento il nostro satellite, l'ammasso stellare sarà più in alto a destra, mentre Giove sarà sotto di lui. Il 5 luglio la Terra raggiunge l'Afelio, la massima distanza dalla nostra cara stella. Ci troveremo così a ben 152 milioni e 100 mila chilometri. 6 luglio la luna fa compagnia al Sole, infatti a luna circa il nostro satellite naturale si trova in congiunzione con Elio. Cade il 9 luglio, che segna il momento dopo il quale inizieremo a rivedere Selene e abbellire i cieli serali, movimentandoli un pochino. In verità vi devo dire una cosa, in queste sere di inizio luglio Mercurio fa capolino al tramonto e quindi almeno un pianeta ci fa compagnia. Il periodo migliore per osservarlo, per chi non è esperto, inizia con domenica 7, quando tre quarti d'ora dopo il tramonto un piccolissimo falcetto di Selene sarà accompagnato in basso a sinistra da Mercurio. L'evento non sarà facilissimo da vedere, perché i due astri saranno molto bassi all'orizzonte. In questo caso le regioni del sud Italia saranno più facilitate, poiché Mercurio risulterà a circa 5 gradi dall'orizzonte. Nei giorni successivi il pianeta raggiungerà la massima altezza sull'orizzonte e ciò accadrà l'11 per la precisione, mentre il 22 sarà la massima elongazione est. Venerdì 12 la luna è all'apogeo, la massima distanza dalla Terra, a 404.400 km. La sera successiva, sabato 13, la vedremo prossima al primo quarto e vicina a Spica. Guardando il nostro satellite naturale, dopo l'arrivo delle tenebre noteremo alla sua sinistra l'astro più luminoso della costellazione della Vergine, Spica per l'appunto. Potremo seguire il loro avvicinamento per alcune ore, fino a quando saranno basse all'orizzonte. Risulteranno abbastanza vicine e in alcune zone del centro Nord America potranno assistere all'occultazione della stella da parte di Selene. Per chi possiede un piccolo telescopio o un binocolo, la mattina di lunedì 15, quando ancora il buio domina sulla luce del Sole, potrà puntare lo strumento verso Marte, che si trova circa ad est. E notare che alla sua sinistra, ovviamente se lo strumento non ribalta l'immagine, perché altrimenti lo vedremo a destra, c'è un astro meno luminoso e di colore verdino, è Urano. Una volta ammirato l'incontro, non scordatevi di guardare le Pleiadi e Giove vicino alle Iadi. Diciamo che il Toro è una costellazione che regala già da solo delle belle emozioni, anche con un piccolo strumento. In questo periodo in cui in essa risiedono ben tre pianeti, ci ammalierà ancora di più. Avevamo detto all'inizio del video che lo scorpione in questo periodo iniziava a dominare il cielo verso sud. Mercoledì 17, la luna gibbosa crescente incontra la sua stella principale, Antares. La sera vedremo questi due astri molto vicini tra di loro in direzione sud, tre quarti d'ora dopo il tramonto del Sole. Disteranno circa mezzo grado, cioè diametro apparenti della luna piena. Antares è quest'astro luminoso di colore rosso che si trova sopra Selene. Alcune regioni del Sudafrica vedranno il nostro satellite naturale occultare la stella che ha lo stesso colore del pianeta Marte. Domenica 21 luglio alle ore 12.17 cade il plenilugno. Potremo godere della luce di Selene sia la mattina, quando il Sole sorgendo verso oriente saluta Selene che sadagia l'occidente, che la sera, quando il nostro satellite inizierà ad illuminare delicatamente le nostre città al posto di Elio. Con il plenilugno la luna inizia a sorgere sempre più tardi nella notte e a tramontare sempre più tardi la mattina. La potremo così scrutare mentre percorre le costellazioni che ci fanno compagnia fino all'aurora, come il Sagittario e poi quella del Capricorno. E dopo il Capricorno tocca all'acquario dove il nostro satellite naturale incontra Saturno. Il 25 vedremo il pianeta con gli anelli in basso a destra di Selene mentre lei si trova nella fase gibbosa calante. Sarà una bella luna da osservare, anche con un binocolo, perché sarà più grande del solito essendo avvicina al Perigeo, cioè alla minima distanza dalla Terra. Continuando il suo trotterellar tra gli asterismi che popolano lo Zodiaco, dopo l'acquario la luna entra nei pesci e dopo i pesci tocca all'Ariete ospitarla, dove il 28 la vedremo all'ultimo quarto. Ma non finisce qui perché luglio termina in bellezza con la luna nel toro. Il 30 Serene sarà di nuovo vicino alle Pleiadi e a Marte. In piena notte la vedremo sorgere dolcemente preceduta dalle sette sorelle, poi quando tutte insieme si saranno alzate in cielo di alcuni gradi, vedremo apparire sia il pianeta rosso che il brillante Giove. Guardando verso est, tre quarti d'ora prima del sorgere del sole, lo spettacolo raggiunge il suo apice. Le prime luci del D, quelle che suavemente infuocano l'orizzonte verso oriente mentre il resto del cielo perde lentamente il suo oscuro colore, saranno lo sfondo ideale per ammirare allineati, quasi a formare una linea verticale, la luna, Marte e Aldebaran. Mentre il pianeta che porta il nome del re degli dei greci è lì a far loro compagnia, più o meno alla stessa altezza della fulgente stella del toro. Uno spettacolo sicuramente da ammirare e da fotografare. Insieme a con tanta bellezza i più fortunati, quelli che avranno orizzonti liberi da ostacoli e da nubi, potranno ammirare una parte di Orione e stagliarsi tra il toro e il terreno. La mattina successiva, il 31, sempre alla stessa ora lo spettacolo nel toro celeste si ripete, ma stavolta vedremo le pleiadi solitarie a guardare dall'alto Marte, che sovrasta la bella Aldebaran, il luminoso Giove e una sempre più piccola luna. Tutti e tre questi ultimi astri saranno belli allineati quasi a ridisegnare in cielo la linea che separa il mondo degli umani da quello delle stelle. Chissà se in un mondo più attento alle bellezze del cielo, questo evento sarebbe stato atteso e ammirato con piacere da milioni di persone. Io sono Luca, se vuoi supportare questo progetto di esplorazione delle merediglie del cielo metti un bel mi piace, condividilo con gli amici e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale. A questo punto non mi resta che augurarti come sempre buonanotte e buone stelle.